Dottoressa Francesca Di Lorito della Biblioteca Provinciale di Pescara, oggi c'è stata la cerimonia di chiusura di questa consegna dei libri da parte della biblioteca ad alcune scuole della provincia di Pescara. Sì, alle scuole della provincia di Pescara e della provincia di Chieti. Sono 12 istituti comprensivi che hanno aderito al progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro, ideato dalle librerie giunti al punto del gruppo editoriale. Noi facevamo capo alle librerie di Spoltore e di Pescara. Questa raccolta è stata fatta nel mese di agosto, lo scorso agosto, e oggi abbiamo deciso di fare un evento conclusivo fondato poi anche sul libro, sulla lettura. Lo scopo del progetto è quello di creare una biblioteca scolastica all'interno di ogni istituto. Quindi speriamo che questa sia la seconda edizione di questo progetto e speriamo che sia un seme che dia il frutto, diciamo, che noi speriamo, cioè la costruzione di una biblioteca all'interno di ogni istituto scolastico. Noi siamo a disposizione degli insegnanti e dei bambini, ovviamente. Le statistiche quest'anno, diciamo, in qualche maniera hanno sempre evidenziato una carenza a livello dell'adolescenza, soprattutto, perché fino a dieci anni, grazie all'aiuto degli insegnanti e anche dei genitori, ecco, che partecipano, effettivamente, diciamo, c'è un buon risultato nella lettura. Il punto debole è effettivamente sempre stato poi la parte adolescenziale, ma le ultime statistiche sono anche confortanti perché, diciamo, che stanno dando anche dei buoni risultati anche su questa fascia. E molto importante è l'interazione tra la scuola e la biblioteca, perché la biblioteca è un punto importantissimo, ecco, per aiutare le scuole e per invitare i ragazzi a venire, a considerare la biblioteca un polo culturale, diciamo, ampio, ecco, dove non si studia soltanto, ma si creano amicizie, si può giocare, si può stare insieme. Come abbiamo fatto oggi?